E' una stagione dura l'autunno e questi giorni di novembre, gli inizi di novembre, ci ricordano grandi disastri che hanno segnato la storia delle vicende idrogeologiche del nostro paese così bello e fragile. Nella notte fra il 2 e il 3 novembre del 1968 franò la Valstrona, Valstrona di Mosso. Ci furono 72 vittime, vennero giù persino i cimiteri, capannoni interi vennero trascinati a valle, più di cento fabbriche vennero distrutte e centinaia di attività artigiane. Per fortuna che era una notte fra il sabato e la domenica, altrimenti non avremmo contato solo una settantina di morti, ma probabilmente migliaia. E' il destino del nostro paese, ma non è un destino inesorabile. Eppure negli anni seguenti, solo in Piemonte, nel 1994, nel 2000, nel 2016, fino al 2020, pochi giorni fa, nel Cuneese, abbiamo assistito ad altre frane, altre morti. I morti sono arrivati persino dalla Francia perché i dissesti non conoscono i confini segnati dagli uomini. Qual è la lezione? Che queste terre vanno custodite, queste terre che ci sono state date. Papa Francesco non era laudato, si dice che la terra ci precede, ci è stata data. E va custodita. C'è possibilità di farlo, c'è necessità di farlo. Abbiamo spesso 60 miliardi per correre dietro la morte che è avvenuta giù dalla terra non custodita. Qualcuno ha calcolato che ce ne vorrebbero 40 per mettere in sicurezza il nostro paese. E' il caso di farlo. Case, campi, officine e stabilimenti industriali, ancora Grazie a tutti. Grazie a tutti.